rieccoci una buona serata da marcus allora come avevo annunciato il 90 su genova è arrivato è arrivato dopo quello di roma se noi andiamo indietro c'è il 90 su roma e poi dopo due colpi arriva su genova al settimo colpo di gioco la cosa che mi dà fastidio è che non è arrivato con gli abbinamenti è già il secondo 90 che veramente mi fa incacchiare veramente perché è arrivato senza abbinamenti il 90 è arrivato come strato semplice però avete visto che lambata è arrivata comunque perché palermo ovviamente essendo più uscito più volte il 90 il conteggio arrivava più volte su palermo ma come vi ho sempre detto nei video precedenti è che il 90 essendo già uscito su palermo doveva riflettersi su genova così è stato rimane adesso firenze la ruota che stiamo giocando su telegram con i suoi abbinamenti speriamo almeno in quelli e poi cagliari e torino rimangono le ruote secondarie poi faremo nel dettaglio un altro video con il 90 parliamo del 78 78 avete visto che ci sono tantissime condizioni su palermo e genova vedrete che 78 non si farà non si farà attendere quindi il 78 settimana che viene vedrete che lo vedremo su genova e palermo con la trentina e la quarantina il 34 43 i migliori indiziati per il genova e palermo con 78 avete visto che comunque il 90 è arrivato come vi avevo detto quindi è un numero solo bene però non è arrivato con gli abbinamenti che vi dicevo allora poi non ho nient'altro da aggiungere se no che ci sentiremo poi domani con più calma con tutti gli schemi sono fuori sono uscito dal dal ristorante dalla pizzeria e ho fatto il video per informarvi di questo comunque siete stati già più bravi di me mi state mandando dicendo lì nello stesso del 90 preso come maestrato semplice peccato peccato che non ci sono gli abbinamenti vediamo adesso quello che rimane su firenze comunque 78 vedrete genova palermo vedrete che non si farà attendere noi ci risentiamo passatevi un buon fine settimana ragazzi e poi domani con più calma ne riparliamo per quanto riguarda 78 e per i prossimi 90 della della nuova classifica 90 dai buona serata ancora ci sentiamo sempre dal vostro amico marcus ciao ciao ciao